ehi la signorina bye bye ti sparo sulle ginocchia e la ducon oh mio dio ma quanti siete e cucciolino che cosa vuoi fare con quella pistolina abbiamo fatto subito piazza pulita c'è un altro c'è un altro oh mio dio ma quanti kg stiamo facendo occhio di sparo sulle chiappette signorina prendiamo subito questa armetta ci dovrebbe essere un altro playerino o ma io sono nell'erba cucciolo ma non mi vedi che abbiamo anche livellato uno start mega galattico amici miei perché oggi andremo ad eseguire la tecnica proibita per andare a sbloccare un bosso segreto all'interno della mappa infatti dobbiamo andare proprio qui a potere pannocchia e come ogni tecnica segreta abbiamo dei passaggi da eseguire ma prima di fare qualsiasi cosa mi raccomando all'interno del negozio oggetti only one code r4 sco ci dobbiamo sbarazzare velocissimamente di questo playerino che è entrato oh oh mi spara da un altro ma dov'è dov'è ehi la signori no 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 signorina ma è un nuovo uno skin cosa diavolo ha è mezza pelata più al lato ah no ma era un bug ehi la signorina non abbiamo tempo da perdere con lei e con i suoi amichetti eccolo ma ma questo è un buon ma questo è un buon è un mezzo chillato alla faccia del bottasso sono tutti cattivi oggi sicuramente già vi sarete accorti che sto indossando la skin mistica che ha un'abilità speciale che è quella di andare a ricopiare le skin che va a chillare però attenzione perché qui stiamo parlando di una nuovissima tecnica che possiamo fare solo e solamente all'interno di questa nuova season innanzitutto dobbiamo andare a prendere la nostra cavia il nostro soggettone che si tratta proprio di questo boss che dovrebbe essere qua signor boss salve ma dov'è ma me l'hanno chillato boss boss oh no ah no scusate ho sbagliato è dall'altra parte all'interno dell'altra stalla che cos'è questa roba ci prendiamo la grada e andiamo subito all'altra parte già mi stavo preoccupando ecco qui puntini ed ecco qui il nostro boss che sta lavorando questa è una skin oh mio dio cosa diavolo fai segreta se così possiamo chiamarla perché ancora non è uscita all'interno del negozio oggetti quindi non possiamo ottenerla ma grazie al superpotere della signoria mistica possiamo ottenerla e vi farò vedere qualche cosina in più che sicuramente non sapete ora signor boss mi spiace per lei ma abbiamo un compito abbiamo una missione da seguire ok le scuola abbiamo un mio dio è tornato un confu pandale un po strano un po ecco con dei problemi ok molto molto bene ecco qui la nostra skin e ora ci dobbiamo sbrigare perché con l'abilità di mistica abbiamo solamente un tot di tempo prima che svanisca e torni mistica quella vera e propria quella originaria dobbiamo andare all'interno di una zona tipo questa qui di un di un evento posto 0 come si chiama lei ok dobbiamo entrare non ci dobbiamo far prendere danno da nessuno scappa 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 ok credo funzioni così quindi dobbiamo entrare e uscire al volo ora vediamo se prova mistica a ridiventare lei oppure riusciamo a mantenere le sembianze di questo funghettino tossico dobbiamo aspettare qualche secondo io intanto vado allutare un po bello questo me lo porto dietro con me questo bello scildone siamo ancora lui sembra andare tutto per il meglio ancora o no 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 ok questo è il test definitivo o no i fenomeni subito però no i fenomeni subito però no attenzione ok uno noccato quello lì a venom hanno anche questo avvero ragazzo non ti volevo villare che uno l'abbiamo villato ora dovremmo ma dove è andato l'amico l'amico dove diavolo è andato non capisco dove si è andato l'amico ma è tipo delta planato via da un mio dio che paura dove è il suo amico ragazzo venga fuori ok lo vedo lo vedo lo vedo sta tipo sciagallando ma io ti ho visto cucciolo c'è nascosto qua dietro saliamo ora lo dovremmo un mio dio no ma un fantasma è un fantasma ufficiale ma l'avevo visto vi giuro qua davanti era sotto questa collinetta lui sicuramente vuole riprendere la testa del suo amico noi glielo dobbiamo permettere in realtà sapete che cosa vi dico che mi prende questo simbionte qui almeno andiamo più veloci e possiamo anche delta planarci via ok build a build a build a dire lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo no 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 ok lui vuole prendere la scheda del suo amico a noi non ci interessa niente lo aspettiamo all'interno della safe noi siamo ancora alla skin del fungo tossico signor mi è sto funzionando la perfezione ora vediamo se chiediamo anche questo soggettone qua anzi mi è venuta una bella idea signorino lei tanto deve venire qui esattamente dove siamo passati noi e io l'aspetto o mio dio aspettate non vorrei che mi fa il giro dall'altra parte ma non credo che sia così furbo noi abbiamo fai dato laggiù quindi cucciolo ci sei sono sparando alla nostra destra ma a me sembra molto molto ok 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 sono due playerini una tipo del tavlanato quindi ha preso la macchina ok molto molto bene quest'altro sta fai dando contro gli altri io che in realtà volo villare venom ma vabbè ci accontentiamo anche di questo pesce seccone ragazzi 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 signor pesce lei signor signor pesce bravo 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 signor pesce ok molto molto buono devo no questo mi vado a cercare questo eh ma ti conosco ti conosco io ho acciaccato playerini per anni occhio ti facciamo subito questa roba abbiamo una bella jump gustosa ehi mamma che polletto sei caduto nella mia trappola l'ho visto quel playerino e te lo ho permesso di fartelo restare ok molto molto bene di 90 furbetto in realtà anche medici sarebbe voloso ma ci accontentiamo di questa robetta qui penso proprio che arrivato il momento dello scildone signori abbiamo fatto dieci kill col fungo e la pesce no 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 pesce 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 stai tranquillo stai tranquillo stai tranquillo fammi giampare fammi giampare il salto pace ok grazie mille c'è un fungo volante che sta svolazzando via ma stavo pensando mentre qui c'è del golosissimo lutto ma credo sia una trappola no noi l'abbiamo preso in silenzio prendo anche lei sparano 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 da distantissimo stanno sparando o no ma non è un player è un npc o mi sta sparando qualcuno non capisco che sto vi so per dire sono curioso quasi quasi di vedere gli avversari e cosa pensano quando vengono villati da noi che siamo dei barbagianni e la tuta ha messo alla tua roba signor pesce pensi a tranquillo signor pesce o mio dio quanti plegierini boom 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 no 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 perché siamo dei polli perché facciamo queste pollate è stato comunque un successo la tecnica funzionale alla perfezione siamo rimasti il fungo per tutta la partita abbiamo scoperto qualcosa di epico mi raccomando perciò all'interno dei ragazzi oggetti il codice più fresco del centro italia r4 iscriviti al canale attivate la campagna delle notifiche e troppate un bel like furbetto se ancora non l'avete fatto ora vi lascio due video bomba che dovete assolutamente andare a vedere noi ci vediamo prestissimo con tante altre news e l'estra grazie a tutti